Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Da Piaggia i sindaci dell'entroterra ribadiscono il loro no all'ospedale unico e rilanciano sul potenziamento degli ospedali esistenti Tra un mese il referendum per decidere sulla fusione dei comuni di Saltara, Montemaggiore al Metauro e Serrungarino La piazza di Fanno come quelle di Parigi, anche le associazioni di categoria dei commercianti d'accordo sui nuovi arredi per bar e ristoranti all'aperto Per combattere il bullismo tra i giovani occorre una formazione adeguata anche dei docenti Dopo il telegiornale, nuova puntata di Missione Salute Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Cominciamo da una breve di cronaca Un extra comunitario di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Fanno dopo un breve inseguimento perché è trovato in possesso di 150 grammi di hashish Prima del controllo il giovane è salito sulla sua bicicletta e si è dato alla fuga tentando di disfarsi dello stupefacente Dopo un breve inseguimento è stato preso e arrestato Ieri è stato processato e ha patteggiato la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione oltre a 4.000 euro di multa Oggi a Piagge si sono incontrati i sindaci di varie località dell'entroterra di Pesaro e Urbino e hanno ribadito il loro no all'ospedale unico e hanno rilanciato, hanno chiesto un nuovo piano sanitario regionale che preveda il potenziamento degli attuali ospedali delle attuali strutture sanitarie Tutto questo a pochi giorni da un'altra importante conferenza quella dell'area vasta dove ci saranno tutti i sindaci Ebbene, oltre a questo, come sentirete tra poco dal sindaco di Pergola Francesco Baldelli Baldelli risponde anche all'appello che è stato lanciato nei giorni scorsi dal sindaco di Fano Massimo Seri che chiedeva sostanzialmente un aiuto appunto da parte dei sindaci delle zone dell'Interland Sentiamo Questo piano sanitario regionale che chiude i nostri ospedali ora non più soltanto nell'entroterra ma anche lungo la costa non è condivisibile quindi presentiamo una piattaforma progettuale condivisa dai sindaci che erano oggi qui presenti ma anche da altri colleghi perché un altro piano sanitario è possibile Il sindaco di Fano qualche giorno fa anzi ha lanciato un appello una richiesta d'aiuto ai sindaci dell'entroterra non fatelo per Fano, fatelo per il vostro territorio sostenete l'idea di Chiaruccia come ospedale unico ovviamente mi pare di capire che l'appello e la richiesta d'aiuto sia caduta nel vuoto No, non è vero l'appello del sindaco di Fano che io credo che debba essere un appello invece dei cittadini di Fano a salvaguardare la sanità e l'assistenza ospedaliera nella terza città per popolazione delle Marche deve essere quella della difesa strenua dell'ospedale di Fano non dobbiamo discutere di un ospedale unico che chiude tutti gli ospedali del nostro territorio e tra l'altro già sappiamo che la posizione ormai della stragrande maggioranza di chi dovrà decidere su questo ospedale unico se mai verrà realizzata è per Fosso Segiore o per Muraglia quindi già questa scelta sembra fuori luogo ma al di là di questo noi dobbiamo mirare non a sostituire la sanità pubblica con quella privata perché abbiamo già sentito delle proposte facciamo a Chiaruccia un ospedale privato, una clinica privata non ci interessa a noi ci interessa un sistema ospedaliero e sanitario che dia garanzia di assistenza ospedaliera per le acuzze a tutto il territorio provinciale Fano compresa quindi noi chiediamo che Fano, l'ospedale di Fano esistente vada potenziato così come debba essere potenziato, ristrutturato qualora necessario l'ospedale di Pesaro nessuno è contrario anche alla costruzione di una nuova struttura in Pesaro ma rimanga questo sistema policentrico adesso va di moda questa espressione ossia più centri che garantiscano l'assistenza ospedaliera ai nostri concittadini Ecco per chi non è riuscito a seguire in diretta la conferenza che avevamo trasmesso oggi pomeriggio qui sul canale 17 potrà farlo dopo l'edizione delle 22 e 30 del nostro telegiornale conferenza integrale e adesso che abbiamo argomento sui nuovi arredi di bar e ristoranti all'aperto quelli che sono nel centro storico oggi siamo andati a sentire il parere dell'assessore all'urbanistica e anche dei rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti La qualità e l'armonizzazione degli arredi ci sono stati richiesti dagli organi competenti e su questa linea abbiamo elaborato una bozza questo il concetto che l'assessore Paolini ha espresso ai nostri microfoni che riassume lo spirito con il quale l'amministrazione e gli uffici tecnici di Fano stanno lavorando al progetto di arredo urbano che riguarderà le 81 concessioni in essere al momento ma che servirà anche per quelle a venire I tempi ci sono per fare le cose bene e con la condivisione di tutti ha continuato l'assessore non siamo con l'acqua alla gola Si tratta di regole che servono per rendere più bella la città soprattutto per rendere percepibile sia ogni monumento di questa città ma anche gli spazi che sono comunque in un ambito di centro storico e devono essere percepiti della città stessa e quindi anche la qualità degli allestimenti esterni ma anche una loro in qualche modo armonizzazione è necessaria ci è stata anche richiesta dagli organismi competenti e quindi abbiamo elaborato una bozza di regolamento nella giornata dell'altro ieri abbiamo poi parlato con i rappresentanti delle categorie interessate quindi fondamentalmente commercianti e artigiani e abbiamo anche fatto delle riflessioni su alcuni dei temi che possono avere ricadute sugli esercenti e sulle concessioni in essere quindi bisogna essere molto attenti molto delicati e dare una flessibilità sui tempi di adeguamento per non danneggiare nessuno e per avere questo risultato di una immagine della città più bella La sua intendenza valuta molto quali sono i vincoli se si possono esprimere che hanno messo a riguardo di questo aspetto? Ma intanto occorre fare grande attenzione ai beni vincolati quindi a dei palazzi e dei manufatti che sono monumenti per cui devono essere percepibili nelle linee prospettiche quindi le concessioni non è che sono vietate ma devono adeguarsi a questo criterio Negli ultimi anni il tessuto economico produttivo di Fano si è trasformato da industriale a commerciale con il conseguente fiorire di richieste da parte di esercizi pubblici del centro e zone turistiche di occupazione di suolo pubblico per questo le associazioni di categoria attendevano da tempo una nuova regolamentazione e la prima impressione di questa bozza è sicuramente positiva è necessario avere un regolamento perché comunque la legge è cambiata e la complicazione che la nuova legge porta è a dover chiedere alla sovrintendenza molte più autorizzazioni di prima con un regolamento si può superare questo problema quando nel regolamento stesso vengono fissati materiali colori e le linee guida su come poi gestire il tutto il nostro primo pensiero è stato quello di, a scanso di equivoci, di fare chiarezza il centro storico di Fano non può essere musealizzato per fortuna abbiamo trovato persone ragionevoli nella figura il primo luogo del sindaco, dell'assessore Paolini ci ha dato una grossa mano anche l'ex assessore all'urbanistica e alle attività produttive che è Dino Zachilli col quale abbiamo instaurato un rapporto diciamo di mediazione tra noi e la sovrintendenza tra un mese i cittadini di Saltara Monte Maggiore al Metauro e Serrungarina dovranno pronunciarsi con un referendum sulla fusione dei tre comuni per darne vita ad uno solo che si chiamerà Colli al Metauro Questa sera sentiamo il coordinatore del gruppo intercomunale che sta lavorando per questo progetto si chiama Andrea Cappellini Come nasce l'idea di questa fusione anche se le fusioni tra comuni sono un tema estremamente attuale? Diciamo che la normativa di riferimento ormai anche nazionale porta secondo me certamente a questo passo anzi dirò di più la legge del 1990 addirittura parlava di accorpamenti dei comuni nasce poi da una logica una logica che vede i comuni in questo momento in grossa difficoltà e per forza di cose devi unirti non è che c'è una qualcuno ha parlato di un'imbeccata politica da parte di uno schieramento eccetera io tengo a precisare non faccio parte di nessun partito politico non è così è chiaro sono delle norme a livello nazionale che facilitano le fusioni se poi in questo momento c'è una parte politica che dirige il paese questo non è certamente se fanno anche cose positive perché no e ripeto è arrivarci non si può evitare è un processo che secondo me prima o poi diventerà per legge allora meglio sceglierlo di farlo che subirlo Ecco luce e ombre di questa fusione Beh le luci sono tante noi non nascondo che è più di un anno che ci studiamo lavoriamo abbiamo analizzato ogni parte delle norme i nostri bilanci la possibilità di accorpare di fare servizi sotto un'unica ragione sociale e la riorganizzazione degli uffici insomma le benefici sono tanti non ultimo quello di natura economica che però non è solo quello perché come sapete sono dei trasferimenti importanti per i comuni fusi è una riorganizzazione è proprio il modo di pensare che è diverso Perché alcuni comuni comunque del circondario non hanno aderito? Perché c'è stata questa defiance? È proprio su quel tavolo politico che abbiamo discusso l'ipotesi di una fusione venendo fuori un discorso già è un discorso a una sintesi siamo venuti dopo tanti incontri dopo un confronto serio devo dire anche equilibrato dei quattro sindaci e Cartaceto ha deciso come tutti ben sapete di non partecipare a questo progetto di fusione è una scelta rispettabilissima ognuno ha le sue idee ognuno è giusto che le porti avanti come crede Per me, l'ho sempre detto pubblicamente è stata una, non dico mezza sconfitta sarebbe stata più compiuta una fusione A4 L'appuntamento è per il 13 novembre? Invito tutti, invito le persone andare quanto è più possibile a votare perché è una scelta così importante io credo che è un dovere del cittadino andare a votare ovvio che mi auguro un sì perché penso che si possa costruire qualcosa di importante per il nostro territorio Per combattere il bullismo è necessario passare anche dalle scuole per questo è importante la formazione dei docenti su questo tema così importante e delicato Ciò che non conosciamo ci spaventa e quello che ci spaventa tendiamo ad emarginarlo, ad isolarlo o nella peggiore delle ipotesi a combatterlo Il brodo di cultura nel quale prolificano le discriminazioni e le violenze sessiste è il luogo comune, il preconcetto Nessuna distinzione etnica, di genere di credo religioso può avere peso quando si tratta di garantire i diritti di un essere umano E' in questa pericolosa deriva dove anche le cronache recenti ci insegnano che possono trovare spazio estreme conseguenze che le giovani generazioni soprattutto in età scolare è facile che possano scivolare Allora la scuola e il corpo docente assumono un ruolo fondamentale per mettere in campo una strategia chiave per combattere i fenomeni di discriminazione e cioè coinvolgere direttamente ragazzi e ragazze per ribadire il principio di uguaglianza A questo serve il progetto Tu con me ideato dall'Istituto Superiore Polo 3 che vede coinvolti 18 istituti scolastici marchigiani 120 docenti e 17 associazioni del territorio Questo progetto Tu con me innanzitutto è stato uno dei progetti approvati dal MIUR su circa 500 progetti presentati da tutta Italia insieme ad altri 14 quindi solo 15 sono stati finanziati Ecco, e diciamo l'idea che appunto sta alla base di questo progetto è veramente un principio molto semplice di non discriminazione cioè quando noi vogliamo garantire i diritti di un essere umano non possono esistere distinzioni di nessun genere Ed ecco allora che qui appunto entra in gioco il ruolo della scuola la scuola con questo suo compito importante dal punto di vista educativo che può mettere in atto veramente una strategia importante cioè quella di far partecipare attivamente le ragazze e i ragazzi a diciamo far sì che poi appunto davvero siano loro i promotori di questa eliminazione della discriminazione che purtroppo invece appunto sappiamo benissimo esiste e ci sono situazioni continue di discriminazione Un progetto complesso ed articolato in diverse fasi che terminerà a maggio del 2017 finanziato dal Ministero e che è partito oggi nell'aula magna del Volta con una conferenza della sociologa Elisa Rossi dell'Università di Modena Vorrei far capire come è importante proprio lavorare nell'interazione con i bambini, i ragazzi e le ragazze naturalmente sugli stereotipi innanzitutto far loro riconoscere che cos'è uno stereotipo di genere e cercare attraverso delle azioni comunicative di tipo dialogico quindi una forma dialogica di comunicazione cercare di contrastare di in qualche modo decostruire lo stereotipo introducendo delle nuove narrazioni delle narrazioni alternative delle contronarrazioni su quello che invece è la norma la tradizione che ci portiamo dietro con dei riflessi ancora di società molto patriarcali quindi credo che dobbiamo sicuramente partire molto presto dobbiamo fare prevenzione dobbiamo fare più che un'educazione a rispetto io direi proprio una promozione del dialogo del dialogo e del rispetto mi piace chiamarla così quindi una promozione del dialogo tra i generi una promozione del dialogo tra le persone che sia quindi improntata al rispetto delle differenze non solo differenze di genere, culturali, religiose ma anche differenze personali a Sant'Angelo in Vado dove si sta svolgendo la Fiera Nazionale del Tartufo venerdì prossimo sono attesi 300 motociclisti da tutta Europa Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e Germania per i bikers sono in programma tre moto passeggiate e degustazioni con cena e musica dal vivo ad accompagnare i centauri europei non mancheranno ovviamente i tanti di casa nostra Fano è stata l'unica città al mondo ad aver avuto il privilegio di un carnevale firmato da Dario Fo nel 2003 fu un'esperienza eccezionale che coinvolse la città intera e rese protagonisti attivi qualche centinaio se non migliaia di cittadini con i bambini in prima fila così in una nota il vice sindaco e assessore alla cultura marchegiani seppe coniugare il rito tradizionale della festa in uno spettacolo che coinvolse i luoghi simbolo della nostra città dal mare all'arco d'Augusto dal palazzo della ragione alle scuole cittadine in un racconto canevalesco dove dentro ci fu la storia della nostra civiltà tutto ciò che ci ha insegnato conclude la nota resta un patrimonio culturale di grande valore che Fano non dimenticherà e custodirà come memoria e insegnamento per gli anni a venire Dopo il telegiornale c'è un'altra puntata in diretta di Missione Salute vedo già Lino Balestra collegato con il nostro studio allora di che cosa parlerete Lino? Buonasera Marco uno studio tutto al femminile questa sera avremo le dottoresse del reparto di medicina riabilitativa di Marche Nord per parlarci appunto di tutto quello che avviene in un reparto di riabilitazione e che cosa sono le attività che loro svolgono quindi insomma appuntamento fra pochissimo Bene, grazie Lino domenica 16 ottobre il FAI, il Fondo Ambiente Italiano ha scelto Fossombrone per svolgere la FAI Marathon uno degli eventi autunnali di maggior rilievo che coinvolgono i più bei centri storici d'Italia la giornata si svolgerà all'interno di un percorso che illustrerà l'assetto urbano del centro storico sviluppatosi tra il 500 e il 700 l'obiettivo è quello di aprire ai visitatori le porte dei palazzi privati più rappresentativi della storia di Fossombrone eccezionalmente dunque si potranno visitare il Palazzo Monte di Pietà in Corso Garibaldi 64 il Palazzo Lattanzi in Corso Garibaldi 79 e solo per gli iscritti al FAI il Palazzo Sabatelli in Via dei Giganti le aperture saranno dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 prima di Missione Salute che partirà tra pochissimo abbiamo parlato nel nostro telegiornale della piega del bullismo e allora ci salutiamo con questo filmato grazie per averci seguito, arrivederci grazie per averci seguito, arrivederci grazie per averci seguito, arrivederci grazie per averci seguito, arrivederci